Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono Poker76 e in compagnia con me c'è Axel99 E scusate per il messaggio Già, ora vedo chi è Ok E' Vincenzo? Senta B Vincenzo Caterino Oggi vi faccio vedere come reglutare Non lo so neanche io Dall'epsinone? Non lo so Vai dall'epsinone Scusate mi ha sbagliato Sì è normale Allora soffidiamo Dall'epsinone? No Dall'epsinone? Non lo fanno diventarsi Allora Kirkwood Zeus Umbrella Non c'è Sarà una scelta difficile E' Vincenzo Vai che stiamo dall'epsinone No Eccluteremo qualcuno Dalla Già misto Dall'epsinone Ma come sto dicendo Come stiamo dicendo Da tre Da tre cose Da tre ore Recolteremo Tu a che stai? Vai Ado Togli Senza modifica Vedete prima dove stanno Tu dove ti trovi? Vabbè nel frattempo che vediamo Tagliamo Abbiamo cambiato Non dell'epsinone Ma dell'absinute royal Recolteremo Gem Che si trova Quello appunto Aemile Aemile Che già Aemile Da qualche parte Aemile Ok Grazie Edman Edman con problemi Di cura Ah Ha detto Gemmina Proviamo In città Io non so Dove stanno Andrò Grazie Lo so Lo so pure Io Perché mi ha rotto La pena Io te l'ho rotto Non hai fatta La pena La pena Ma perché L'ho rotta Ma perché D'amore C'è abbassata Ora va meglio Fai un gol Senza subito Raga Io Noi In porta Teniamo Hector No Non è vero Teniamo Jack Perché si Jack In porta Quando Qualche volta Lo vogliamo Far uscire E' buono Tira E' buono Intercetta Si ma Nelle Mi rispida Però Che sia chiaro Questo Vedete Ok ragazzi Il video Si conclude Qui No Non si conclude Qui Non l'ho ancora Ricludata Che si conclude Qui Affanculo Scusate Scusate Raga Fate Finta Che non L'avete Proprio Sentito Stando Per vedere Sto vedendo Chi ci sto Ok Ehi Fammi Passare Figli Mene Ci Metti Un Allo Tantaradam 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 E questo Per questo Sfida Di registro Ok Mando Per quella Che prima Mi potevi Registrare E tu Dici E tu Non ti potevi Registrare Così Non vuole No Aspetta Così Ok Così Mi viene Storcicollo Però E Vuol dire Fai una cosa Veloce Ma dovevi Tirare Con la Mossa Ok Allora Il prossimo Tiro Con la Mossa Perché Se non Ti ricordiamo Il nostro Gioco Che vogliamo Ripetare Bene Ma perché Se non Usa Energia Della Teso Non si Può Usare E poi Comunque Nella Volta Di Volta Se non Scrappiamo Va Porta Ma Poi A me Mi piace Di Tira Spinta E L'azzo Ora E Che Scarsa Lo Sapevo Che La Parava Sì Quando Lo Sapevi Mi Sono Detto In Mende Mu La Parai Sì Veramente Non lo so Io Fai tirare A dargli Cane Cane Tira Goal 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 Di Cane Goal Del Cane Lascia No il video viene storto così ok il torcipallo non mi è fissato e ora però prima di nascondere prima di finire il video facciamo una cosa che vende che mosse vendono a questo vediamo che mosse vinto e vediamo ciao no io lo so tutte le buone le pone le so aspettate faccio la sfida e poi ok il rete questo è incredibile il polpo gubano ha un re che mi assomiglia a polpo gubano dammi tutte le mosse che hai questo è un arabino ragazzi scrivete qui sotto per voi chi vincerà tra Napoli e Barcellona non dovete scriverlo ma se non l'ho pensato a pochissimo si ma che perché che c'entra mu no raga veramente che c'entra ok non lo scrivete mi raccomando e il video si conclude qui ciao alla prossima raga ciao ciao ciao